E' venuto qui a ritrovarci Tommy D'Annunzio, ciao. Ciao, buonasera. Ti vedo sempre più bello, Vanessa. Grazie, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. La volta scorsa ho presentato una canzone che brava che sei. Ho avuto un bel riscontro, una bellissima trasmissione. Giustamente voglio salutare Alfonso, l'amico Criscuolo, a tutta la famiglia Criscuolo e saluto a te. Buonasera. Allora, che cosa ci fa ascoltare invece in questa nuova trasmissione? Adesso presento due canzoni, due canzoni che, una il titolo è Spiaggia d'inverno, una canzone che ho scritto io, dove ci stanno alcune frasi molto belle che dà fine a una storia, a un romanzo, su questa spiaggia d'inverno con la propria ragazza che lui ama. E la seconda, presento un pezzo più veloce, Non ti voglio più. Ah, quindi i due opposti. Sì. E quindi vogliamo fare qualche saluto in particolare? Un giusto saluto che va alla famiglia Criscuolo, a Cantiamo Napoli e a tutti quelli che ci seguono da casa, a tutti i miei fan. E quindi salutiamo il nostro pubblico perché noi siamo quelli di... Cantiamo Napoli! Un giusto saluto a tutti i miei fancii. 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 Un giusto saluto a tutti i miei fancii.